Buongiorno, mi chiamo Adele Peri e sono responsabile marketing Lufthansa in Italia e oggi vorrei parlarvi di Lufthansa WeFly, un progetto tutto italiano. Lufthansa WeFly si inserisce all'interno di una strategia internazionale di comunicazione molto più ampia nella quale i social media acquisiscono una posizione assolutamente rilevante e per il quale il coordinamento è stato creato un team dedicato in Germania. Lufthansa WeFly nasce nel 2008 come progetto sviluppato in Italia in risposta ad una sfida internazionale detta Innovation Contest lanciata da Lufthansa per premiare le idee più innovative nel campo della comunicazione e del marketing. Nasce così una piattaforma di relazione, inizialmente monodirezionale, che però è il primo esempio sul mercato italiano tra le compagnie aeree che poi con il tempo si sviluppa diventando piattaforma di relazione bidirezionale. Con l'ultimo release, lo scorso luglio, Lufthansa WeFly si avvicina ancora di più a modalità e funzionalità che sono specifiche della logica del social media. Oggi WeFly è la prima community di Lufthansa in Italia, un luogo digitale di incontro e di relazione che favorisce una conversazione di tipo orizzontale tra i viaggiatori e la marca e tra viaggiatore e viaggiatore e dove l'interesse per l'offerta è si stimolata dal brand ma anche dagli utenti stessi. Il coinvolgimento degli utenti si articola su tre livelli diversi. La nostra storia, dove Lufthansa parla di sé, WeFly Magazine, sezione nella quale Lufthansa parla agli utenti e le vostre esperienze, la sezione dei contenuti generati dagli utenti nelle quali le persone possono raccontare delle loro esperienze di viaggio, di volo, parlare del proprio sentimento verso la marca, condividendola con Lufthansa e con gli altri utenti, i quali possono votare, condividere e a breve saranno introdotte delle nuove funzionalità grazie alle quali gli utenti potranno commentare i contenuti generati dagli utenti e da Lufthansa stessa. Questa nuova piattaforma di relazione sta davvero nel tempo modificando la percezione stessa che Lufthansa ha fra i viaggiatori, avvicinandosi sempre di più alle persone, ascoltandole e facilitando la loro conversazione. Bene, a tutti quelli che hanno la passione per il viaggio e per il volo, non mi resta che augurarvi di incontrarvi presto a bordo di un volo Lufthansa o su Lufthansa WeFly.